Le motivazioni dei giudici della Corte Costituzionale della sentenza che legittima l'obbligo vaccinale anti-Covid per i sanitari sono la dimostrazione che viviamo in un sistema in cui i poteri dello Stato si coprono l'un l'altro, non temendo neanche la palese menzogna. Esempio, nella sentenza si dice che il vaccino ha limitato la diffusione del virus. Affermazione falsa, perché se c'è una evidenza è che le persone vaccinate si sono contagiate e hanno contagiato come i non vaccinati e quindi la loro libertà di circolazione senza alcun controllo avrà, al contrario, aumentato la diffusione del virus, se la logica ha un senso. I giudici della consulta ci dicono anche che l'obbligo non eliminava la libertà di rifiutare il vaccino, assumendosi però le conseguenze previste dalla legge. E qui, oltre al danno, abbiamo anche la befa, perché parliamo di un ricatto. Senza vaccinazione si perdeva il diritto al lavoro, oltre all'ostracismo sociale che ben ricordiamo. Insomma, la Corte Costituzionale ci conferma che l'Italia è diventata una piccola Cina.